Ciao ragazzi e benvenuti in un nuovo video Allora, purtroppo il mio fidanzato come sapete è tutto, ripartire è tutto, però io continuo a registrare Allora, in questo video vi voglio parlare del perché io ero in un certo senso nel panico Panico da compleanno, diciamo così Allora, praticamente a causa del bullismo diciamo subito a scuola Un pochettino questa cosa mi ha fatta in un certo senso chiudere Se voi non sapete niente del bullismo perché devo tenere sempre presente che comunque c'è sempre chi Entra nel mio canale per la prima volta Allora, ci sono, se andate a scorrere nei video precedenti, ci sono dei video in cui vi parlo del bullismo che ho subito Allora, praticamente io la chiamo, tra virgolette, la maledizione del compleanno Perché ogni compleanno che io ho fatto in passato, le persone in un certo senso come lo dovevano rovinare Mi ricordo che, cioè, diciamo che non mi ricordo proprio bene se era la quarta o quinta elementare Però mi ricordo bene cosa è successo Praticamente io avevo fatto gli inviti, li avevo consegnati a tutta la classe E praticamente le maestre avevano detto ai bambini Chi sarebbe venuto al mio compleanno Cioè gli erano chiesto e soltanto quattro bambini Su venti, perché in classe ne eravamo una ventina Avevano usato la mano E tra quei quattro sarebbero venuti, diciamo, soltanto se io facevo dei favori a loro Tipo, c'era uno che mi aveva chiesto Tipo, io vengo soltanto se mi porti il colore Cioè, io sono festeggiata, quindi si presume che ero io che dovevo in un certo senso ricevere i regali Però sempre è così Da allora, diciamo, ogni anno deve sempre succedere qualcosa Quindi il fatto che il mio fidanzato venisse Cioè, c'è stato pure chi mi ha detto Mi ha detto, ma è una cosa normale che il tuo fidanzato viene Però per il mio vissuto, cioè per me è stata una sorpresa Perché cose che per una persona qualsiasi è normale Per me no Perché sembra è stato così Fino a due anni fa in cui delle ragazze che credevo, mie amiche, ne sono venute e ne hanno fatto gli ocuri al compleanno Quindi questa cosa in realtà è durata fino a due anni fa Poi l'anno scorso sapete che ho dovuto festeggiare a maggio perché il mio fidanzato non è potuto venire Però comunque io non mi aspettavo che lui potesse essere presente fisicamente Adesso che è ripartito posso dire soltanto una cosa Che sento che mi manca un pezzo di me Non lo so, non so spiegarlo Cioè per chi vive un amore a distanza può capire cosa si prova Infatti io spero con tutto il cuore che potremo trovare una soluzione per poterci vedere tutti i giorni Anche perché io ho capito che lui è la persona giusta per me E sinceramente mi manca Infatti io, se avete notato, dopo che è ripartito non ho fatto più video Perché sono stata proprio male Adesso faccio questo breve video E domani, se tutto va bene, faccio uscire lo speciale Pasqua E quindi Adesso vi voglio presentare qualcuno Lei è Neve, è la mia cagnolina Mi consola quando il mio fidanzato non c'è Anche se pensa a dormire e a mangiare È bella Proprio bella la vita da Da cani, eh Tu che dici? Vuoi dire qualcosa ai nostri Spettatori? Praticamente ragazzi È soltanto detto che vorrebbe continuare a dormire Quindi lasciamolo a dormire in tanta pace E per oggi è tutto E ci rivediamo al prossimo video E quindi